. Uomini e donne, 13 marzo, ancora frecciatine di Fredella contro la Galgani Dopo il rifiuto nellesterna al castello, Rocco Fredella non nasconderà il proprio rancore contro Gemma Galgani. . Va in onda oggi 13 marzo il terzo e ultimo appuntamento televisivo dedicato al trono over di Uomini e Donne. In esso verrà concesso ancora spazio a Gemma Galgani e Rocco Fredella, dopo che ieri lui aveva ulteriormente dimostrato di voler andare avanti con la conoscenza di altre dame. . Sia con Simona che con Rosa, il piastrellista ha scambiato un bacio appassionato, lasciando però la Galgani apparentemente impassibile. . Dopo il ceffone rifilato a Riccardo Guarnieri da Roberta di Padua, ci sarà grande curiosità di scoprire se oggi pomeriggio ci saranno sviluppi sul possibile triangolo formato insieme a Ida Platano. . Il cavaliere ha lasciato intendere di provare ancora dell'interesse per la sua ex Fiamma, sarà ancora possibile un clamoroso ritorno di Fiamma? In attesa di scoprirlo, questo pomeriggio non mancheranno le novità anche per Benny e la stessa Gemma Galgani. . . Uomini e donne anticipazioni, nuovi attacchi da Rocco Fredella. . Il portale Vitti TV ha diffuso le anticipazioni di uomini e donne relative alla puntata di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. . In essa si rivedrà Benny al centro dello studio davanti ad altre dame. . Il cavaliere, che era giunto nel programma per corteggiare Angela Di Iorio, purtroppo non sembrerà interessato a nessuna di loro e continuerà a scuotere la testa davanti alle domande di Maria De Filippi. . Alla fine, però, accetterà linvito per un ballo. . Successivamente si passerà ancora a Rocco Fredella, deciso a porre fine alla sua frequentazione con Gemma Galgani dopo il rifiuto ottenuto nel castello medievale. . Sebbene il piastrellista abbia deciso di non attendere oltre, al punto da avere già incontrato e baciato altre dame, da parte sua ci sarà ancora unevidente frustrazione per i recenti avvenimenti. . Non a caso, avrà ancora qualcosa di ridire contro Gemma alla quale urlerà, sei la convenienza che cammina, non voglio più ascoltarti. . Sarà davvero questa la parola fine nella loro frequentazione? Visto che in passato, la coppia si è resa protagonista di diversi passi indietro, sarà meglio non dare nulla per scontato. . Uomini e donne, adolescente nel corpo di un adulta. . Stando a quanto riportano le anticipazioni di uomini e donne riguardanti lappuntamento odierno con il Trono Over, Rocco Fredella continuerà ad accusare Gemma Galgani di essere interessata solo alla visibilità televisiva e di averlo sfruttato per restare al centro dellinteresse mediatico. . . Una tesi che la dama tenterà di smentire nelle prossime puntate, come precisano le anticipazioni del vicolo delle news in merito alla registrazione effettuata il 6 marzo e durante la quale la torinese ha dimostrato come Rocco abbia organizzato la sorpresa nel castello con laiuto di un manager, lo stesso di Marco e Giorgio. . Questo pomeriggio, Gemma troverà il sostegno inatteso dal parterre maschile del Trono Over con le esternazioni di Marcello che dichiarerà, hai una personalità di un adolescente nel corpo di un adulta. . Nelle manifestazioni che hai, è così. .